Io vorrei parlare della persona. Vedete come abbiamo detto spesso, come ha detto Marco, ma come ha detto anche il nostro amico Antonio Coeli ieri, il venditore è una persona e tutte le cose che ci hanno trasferito in questi due giorni sono caratteristiche, se ci pensate bene, che non riguardano le tecniche di vendita. Abbiamo parlato di tecniche di vendita? No! Zero! Nessuno ci ha spiegato come gestire eventualmente un'obiezione, come trattare un cliente che dice una certa cosa allora io lo posso gestire in questo modo. Abbiamo parlato di caratteristiche della persona, dell'individuo. Quindi abbiamo parlato dell'essere. Quindi una relazione diventa fondamentale fra persone anche per creare una vendita, ma non solo. Io dico forse anche per vivere una bella vita. Alla fine tutte le caratteristiche che noi sviluppiamo, le sviluppiamo forse anche per un fine, diciamo così, imprenditoriale, lavorativo, ma fondamentalmente perché ci aiutano a vivere meglio. Se guardiamo tutte le cose che sono state dette da ieri, sono tutte caratteristiche, pensieri, virtù che portano l'individuo a vivere meglio. Grazie. 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 Grazie.